L'impatto sanitario del coronavirus è ben presto sfociato in una scure sull'economia, un buco nero che sta trascinando nel tunnel della crisi anche il mondo della fotografia, oltre che di decine e decine di altre categorie in difficoltà, anche senza aver dovuto affrontare la chiusura obbligatoria. La sospensione di qualunque tipo di eventi, inclusi quelli sportivi e matrimoni, nonché quelli ludici e di intrattenimento per i fotografi, è stata e sarà per molti mesi ancora una batosta. La situazione è tragica, veramente tragica. I matrimoni sono stati tutti annullati a data da destinarsi. Ci troviamo comunque ad affrontare le solite spese che abbiamo e non avere sussidi, non avere aiuti dalle istituzioni. Oltre al danno la beffa, il codice a teco dei fotografi non è infatti contemplato tra quelli destinatari degli aiuti regionali. E per questo la categoria lancia un appello al governatore De Luca. Noi anzitutto chiediamo al presidente De Luca di correggere il DPM che ha fatto perché non comprende il nostro codice a teco, non rientriamo nei contributi da lui elencati. In più chiediamo un sussidio che ci possa dare quantomeno un minimo di respiro per affrontare le spese per tutto l'anno, tanto da farci arrivare alla nuova stagione lavorativa. Anche se, ripeto, i 2000 euro che poi andremo a richiedere al presidente De Luca facendo questa richiesta, non serviranno anche quelli a nulla perché abbiamo delle spese da marzo fino ad oggi arretrate.